Buon appetito a questa specialissima puntata di C'è posta per te e a questo punto lascerei la parola agli sposi per le loro promesse. Io sono nato in un'isola, avrei dovuto sposarmi lì perché sono nata lì. La nostra vita a quel punto ha iniziato un percorso e quindi abbiamo deciso di creare una famiglia qui. Stanno vedendo! Viva gli sposi! Salute! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sposa vai sposa! Stasera mi putto, stasera mi putto, mi putto con te, e faccio di tutto, e faccio di tutto per stare con te. Viva gli sposi!